Ciao bambini, come promesso oggi impariamo da quanti giorni è formato un mese. Già, quanti giorni ci sono in un mese? Ci viene in aiuto una piccola filastrocca. 30 giorni a novembre, con aprile, giugno e settembre. Di 28 ce n'è uno, tutti gli altri ne han 31. Quindi i mesi con 30 giorni sono aprile, giugno, settembre e novembre. Un solo mese ha 28 giorni ed è febbraio, mentre i mesi con 31 giorni sono gennaio, marzo, maggio, luglio, agosto, ottobre e dicembre. Forse però non sapete che il mese di febbraio è un po' birbantello. Infatti una volta ogni quattro anni può avere 29 giorni. Volete sapere perché? Era il 28 febbraio e l'inverno con le sue giornate grigie non sembrava volersi disgelare, ma nessuno degli adulti se ne accorgeva, come sempre, troppo presi dalla loro quotidianità. La città era ricoperta ancora di nubi e tutto era grigio, triste, soprattutto per i bambini che non potevano uscire a giocare. Tommy, portando il suo cana a fare la solita passeggiata, incontrò un signore grigio, molto alto e con il fare misterioso che con il suo respiro faceva strane nuvolette a forma di tigri, conigli, pesciolini, giraffe, pecore, gabbiani. Avvicinandosi pian pianino il piccolo Tommy scoprì che si trattava del signor febbraio. Con quelle strane nuvolette trasformava in forme geride d'aria i sogni rubati ai bambini. Tommy allora, con la sua curiosità tipica di tutti i bambini, decise di affrontarlo. Ma signore, febbraio non è il mese più freddo, è quello più corto, precisò Tommy. Il signore grigio emise dalla bocca un suono doloroso. Febbraio si sentiva un mese poco importante e poco amato dalle persone. Sapeva che tutti speravano finisse presto per dare spazio alla bella stagione. Per recuperare tutti i giorni persi, Tommy suggerì di rubare un giorno in più solo ogni tanto. Sì, insomma, ogni quattro anni per continuare a creare scompiglio tra gli sbadati. Sembrava un'idea davvero bella. Febbraio per la prima volta si sentì capito, così restò solo un altro giorno. La neve cominciò lentamente a sciogliersi e il sole ritornò a illuminare la città e i bambini a giocare spensierati nei cortili. Per festeggiare le stranezze di quel birbantello di febbraio, quando febbraio ha 29 giorni, chiamiamo l'anno bisestile. Spero sia tutto chiaro, vi aspetto nel prossimo video, vi mando un bacio, ciao!